amici di facebook buongiorno oggi 7 marzo martedì stiamo alla spiaggia castello di manfredonia ecco ho chiesto all'operatore ecologico e che sta pulendo dove c'è la statua di manfredi chi chi dovrebbe pulire ecco tutto questo tutta questa esporcizia e mi ha risposto non è di sua competenza e questo è del mario marittimo allora mi chiedo arriva un ospite un turista ma anche noi cittadini che uno vuole fare una passeggiata a mare deve vedere tutto questo immondizi tutto questo schifo ma non ci vergogniamo e poi vogliamo la città è turistica allora che facciamo guardate in che condizione è la spiaggia la spiaggia libera a castello guardate in che condizione va bene buona giornata a tutti